Il mio. Lazio Roma vs. Novara Calcio 5 dicembre, 2011 Selmukensie-Selzer-Mukensie. Autor, di, punto, Selzer, trattino, Mukensie. Suggerimento, vincete per Lazio Roma. Nell'ultimo duello del tredicesimo giro della Serie Italiana a due gruppi completamente diversi incontreranno nel romano Stadio Olimpico. Il giorno scorso, l'ospita che il Lazio Roma è sull'alta quarta posizione nella Lega e non ha rinunciato alla lotta per il titolo di artigiano principale ancora mentre il nuovo arrivato di Lega da Novara sta combattendo per esso dopo la vittoria inoltre solo sullo diciottesimo posizionate nella Lega da andare via infine del fondo della tavola e a Novara così. L'inizio, 5 dicembre, 2011, ore 20.45. Da allora, più lungo di quello che cinque decenni, il gruppo non ha partecipato all'italiano competizione elitaria da Novara, il Lazio Roma non ha avuto qualsiasi opportunità di così incontrare questo gruppo. Quindi l'allenatore ha spiegato a Reia che essi faranno attenzione molto prima di questa riunione e che essi possono sottovalutare l'avversario in nessun modo. Inoltre i Romani si sono un po' stancati di Romani Anvaslui nel contesto della Lega Europa dopo lo difficile giocate via contro questo. Questo gioco è finito Goal e Sli in modo che inoltre essi stanno nello il correre per lo mettendo nella fase successiva. Hanno essi ritirato una sconfitta sulla parte opposta il giorno di Lega scorso dopo molto molto tempo e essere più preciso a casa di nuovo contro Juventus attraverso cui le loro grandi ambizioni erano confuse un po'. Uno è convinto nel magazzino di Lazio che essi hanno la forza necessaria per recuperare il ritmo di vittoria. In particolare poiché essi devono passare attraverso un programma piuttosto leggero fino a interruzione di Natale. L'allenatore Reia ha indipendentemente in quello essi hanno molti problemi con le ferite sottolineate in particolare quello è molto importante per venire a un tre questa riunione. I giocatori difensivi di Ese Garrido, i giocatori di centrocampo Matuzalem, Mauri e Brocchi così come la rivista Giovane Kuzac ma tutti gli tre giocatori offensivi citati dell'eccellente brasiliano Hernanes che ha anche segnato alcuni obiettivi accanto a numerose presentazioni di obiettivo saranno cancellati cioè sono pronto. Lista attesa Lazio, Marchetti, Conco, Stanchevicius, Diachite, Radu, González, Ledesma, Lulic, Hernanes, Cisse, Close. Pregate a 365, 100% a 100 compenso esclusivo. Allibratore premio vincente. Abbiamo già citato che il gruppo da Novara ha revisionato a sul ritorno nella serie lunghi 55 anni. Era comprensibile che essi sembravano persi un po' all'inizio della stagione ma era anche chiaro, essi troveranno il modo lentamente con il tempo e essi sono venuti alla loro seconda vittoria il giorno scorso in questa stagione in modo che è essere più preciso a casa contro la Parna. Essi Rosso, Rubino e Rigoni incompetente ma nel finale disposto hanno per la vittoria incontrata quello che ha causato un impeto dell'entusiasmo nello stadio in Novara. In questo gioco hanno creato le spese dell'allenatore che tessara cira perché dopo la metà è in ritardo 1-2.0. Cosicché il difensore che Gemiti ha esagerato con l'euforia due minuti prima che il gioco finisce è rimandato direttamente dal posto quello che gli ha causato i suoi problemi di allenatore contro Lazio attraverso prima di i grandi duellano. In questo l'ultimo duello a ferito della Fiorecio è passate, più lunghi, i difendersi giocatori esperti Li Suzzo e Paci non lo stanno facendo già. Questi mezzi che un numero di difesa di Novaro ha sostituito completamente si accumuleranno nello stadio olimpico e questo avrà sicuramente difficoltà a opporre gli attacchi permanenti degli aggressori opposti eccellenti. Questo gruppo ha permesso a se stesso di essere visto nell'ultima ottava riunione finale della Coppa Italiana contro il Catania, però, che davanti a nessuno essi hanno paura e trionfano così esso allo finite con 3-2.2 principalmente grazie a colpi di Meggiorini. Egli è chiuso per questo gioco, però, nell'offensiva Morimuto e Pinardi ancora saranno cancellati. Lista attesa Novara, Uicani, Morganella, Centurioni, Ludi, Garcia, Forcari, Radovanovic, Rigoni, Mazzarani, Granocche, Rubino. Novara ha celebrato che negli ultimi due riunioni, Lega e Coppa, tuttavia, Novara è ancora molto più debole del Lazio Rome, questo intorno all'inizio della tavola della serie che ha combatte, e, se inoltre vuole stare nello il correre può non permettere a se stesso nessun nuovo scontrino nello stadio del suo proprio. Grazie. Grazie. Grazie.